Un morto e tre feriti è il bilancio di una serie di slavine che ha travolto un gruppo di sci alpinisti sulla cima della neve. Arrivature sin alto adige, otto le persone che sono state sorprese dalle valanghe a catena, due sono state trascinate per più di 300 metri. La vittima è un uomo di 57 anni, originario di Brunico.